È di 400 mila euro il finanziamento concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia al Comune di Pistoia nell'ambito del bando Cantieri Aperti 2014. L'importo, che corrisponde esattamente al totale dei contributi richiesti dall'amministrazione comunale, permetterà di attivare a breve sei diversi cantieri, di cui quattro nelle scuole cittadine. Nello specifico sono stati interamente finanziati dalla Fondazione i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Scuola dell'Infanzia Rodari, in via San Sebastiano per un importo di 100 mila euro, alla scuola elementare Bertoneri per 20 mila euro e un doppio intervento alla Scuola Media Raffaello in località Boario per complessivi 135 mila euro. Inoltre è prevista la riorganizzazione degli spazi del polo urbano delle Fornaci per ospitare la sede dei servizi sociali per 100 mila euro e il completamento di due fondi sempre alle Fornaci per il trasferimento del centro di aggregazione sotto il palazzo per 45 mila euro. Quest'ultimo sarà il primo cantiere ad essere attivato. Sempre nell'ambito del bando Cantieri Aperti altri 195 mila euro sono stati concessi dalla Fondazione Caripit al Comune di Quarrata. Serviranno a realizzare a breve due diversi interventi presso le scuole di Valenzatico.